gentili telespettatori buona giornata e benvenuti a questo video di teleitalia parliamo di prescrizioni renzi dice non voteremo mai questo pasticcio se lo vogliono fare ci caccino pure e matteo salvini dice ma noi non siamo isolati con noi ci sono i garantisti penalisti magistrati e secoli di civiltà giuridica italiana e poi aggiunge anche se il premier giuseppe conte sembra non capire la differenza tra giustizialismo e garantismo per noi si tratta di un valore importante da un lato c'è buona fede e purtroppo insieme con lui c'è quel che resta del riformismo del pd dall'altro ci sono i penalisti magistrati garantisti insieme a secoli di civiltà giuridica italiana ma attenzione giuseppe sa perfettamente cos'è giustizialismo e garantismo conte sta giocando la sua partita e renzi gioca la sua partita e buona fede gioca la sua partita partiamo da buona fede buona fede che partita sta giocando buona fede e dei 5 stelle i 5 stelle vanno in piazza il 16 di febbraio per ribadire e anzi per dire che bisogna protestare perché ci c'è il sistema che sta cercando di cancellare tutto quello che loro hanno fatto quindi quello della prescrizione grande cosa che dicono i pentastellati una cosa bellissima la cancellazione della prescrizione un qualcosa di civiltà dice il momento 5 stelle e lui buona fede non può che dire è certo è un qualcosa di civiltà anche se magari non lo condivide perché avrà capito anche lui perfettamente prima di tutto che cancellare la prescrizione è incostituzionale come incostituzionale cancellare i vitalizi incostituzionale cancellare la prescrizione perché dall'intervista dell'ex magistrato nordio si evince esattamente quello che è nel diritto italiano nella costituzione c'è scritto ragionevole durata del processo la ragionevole durata quale può essere può essere 50 anni 40 30 10 5 ma deve essere scritta detta la ragionevole durata del processo può essere opinabile può essere anche 87 anni la ragionevole durata del processo ma deve essere scritta se no non è ragionevole durata del processo e diventa la cancellazione della prescrizione il processo è all'infinito quindi è incostituzionale come il vitalizio la legge non è retroattiva non si può cancellare il vitalizio ed è per questo che vedrete che saranno rimessi vitalizi bisognerà dargli anche gli arretrati e sono un sacco di soldi a 700 ex senatori della repubblica italiana quindi bonafede deve giocare il suo ruolo di deve dire la dobbiamo fare perché lui deve tenere la parte del movimento anche perché è stato premiato e uno dei pochi se non l'unico rimasto confermato come ministro e lo era nel conte 1 nel conte 2 perché conte era il suo professore lui era l'assistente all'università di conte si conoscevano prima erano amici sono amici è il suo preferito perché conte dice anche lui viene dall'università è una persona che ha mai master e dottorato quindi un erudito no un elevato come direbbe beppe grillo quindi bonafede gioca la sua partita conte gioca la sua partita di cercare di tirare più a lungo possibile il governo e di cercare di compiacere sempre e comunque il pd perché lui sarà il candidato premier del del partito democratico zingaretti lo ha detto chiaramente ha detto conte è un uomo del pd è un uomo di sinistra e conte ha poi detto sì è vero ha ragione zingaretti quindi anche conte gioca la sua partita per tirare più in là possibile e per farsi piacere da sempre di più da zingaretti non si sa mai che cambia idea e lui rimane all'università e poi abbiamo renzi che gioca la sua partita qual è la partita di renzi e renzi renzi quando zingaretti gli ha fatto capire che avrebbero cambiato la legge elettorale per farlo fuori non gliel'ha detto ma era questo il messaggio dice come tu renzi hai fatto la scissione e poi hai detto che facevi come macron in francia che svuotavi il partito ti portavi via anche i mobili no tra virgolette una metafora ti portavi via senatori parlamentari ed elettori ah sì non ci sei riuscito è un partito che tra il 3 e il 4 per cento bene io alzo la soglia di sbarramento all'ingresso dei partiti in politica dal 3 al 5 per cento così matteo salvini è fatto fuori politicamente per tutta la prossima legislatura che magari durerà cinque anni e così renzi orgoglioso non ha detto niente dice no noi non abbiamo problemi noi il nostro partito c'è e crescerà con la doppia cifra ma sa perfettamente che non cresce perché gli italiani non hanno più fiducia in lui l'avevano una volta non ce l'hanno più gli italiani sono così ti danno una possibilità forse due la terza non te la daranno mai la di possibilità e quindi renzi cosa ha fatto finta di niente zitto zitto ha detto adesso devo fare cadere il governo e zingaretti dice speriamo che lo faccia cadere perché anche zingaretti vuol far cadere il governo già da tempo ma non vuole essere additato lui come il responsabile perché il responsabile di solito perde voti salvini quando ha fatto cadere il governo conte uno con tutta la ragione che aveva ha perso ha perso come un 7 8 per cento tantissimo è milioni di voti e così zingaretti non vuole essere lui che far cadere il governo la dice io metto alle strette renzi così lui fa cadere il governo è colpa sua io io avevo la avevo al governo facevo di tutto e così passa da zingaretti passa da martire e racimula altri voti ma renzi che lo sa perfettamente non vuol far cadere il governo però tira le lunghe dice comunque sia quando arriverà la votazione sul cambio della legge elettorale del rosatellum che si trasforma in tedeskellum cioè il rosatellum corretto con la soglia di sbarramento più alta lì voteremo no e la legge non passerà poi se cade il governo meglio quindi renzi sta tirando non dice niente ma tira la corda fino a quando ci sarà questa questa votazione intanto comincia a prepararsi comincia a prepararsi come comincia a giocare da esterno nel senso che non ritira la sua delegazione dei ministri però sta già giocando da esterno al governo perché da fuori ha già detto buona fede ripensaci perché non avete i numeri senza di me al senato e anche forse in parlamento non fate assolutamente nulla senza di me non avete i numeri siete finiti non c'è più la maggioranza si formerà una maggioranza alternativa quindi lui vorrà votare con chi in forza italia propone la cancellazione della cancellazione della prescrizione cioè il ripristino della prescrizione oppure renzi dice dovete congelare questa prescrizione per almeno un anno per fare in modo che si possa trovare una soluzione per velocizzare i processi ecco non si è mai parlato di una soluzione ma salvini l'aveva detto già da tempo io lo complemento questa cosa con i 7 miliardi del reddito di cittadinanza regalati e buttati al vento per mantenere più di un milione di persone mantenimento di stato con quei 7 miliardi se ne possono fare di cose si possono assumere magistrati si possono sistemare le caserme di smesse per farne delle aule dei tribunali quindi di cose se ne possono fare anzi avanzerebbero pure tanti di quei soldi con 7 miliardi 7 miliardi di euro sono 14 mila miliardi di lire 14 mila miliardi di lire ha voglia di assumere magistrati e mettere qualche tramezza nelle 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 vecchie caserme che sono perfettamente agibili per fare le aule di tribunali poi guardate sono già protette da muri di cinta quindi perfettamente delle aule di tribunali incredibilmente perfette e così renzi si prepara adesso a dare battaglia sulla prescrizione ma non gliene frega niente della prescrizione se c'era un'altra cosa che si chiamava giovanni lui avrebbe fatto battaglia su quella cosa che si chiamava giovanni per lui è un modo di comincia per cominciare a mettersi dall'altra parte per fare capire che il governo non va bene che lui poi voterà no sulla legge elettorale ma non per quello perché è per tutto un contesto perché il governo non sta andando bene quindi i tre conte bonafede e renzi giocano la loro le loro battaglie personali le loro convenienze io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci